Loro sono Chiara e Tatiana, due amiche unite da un triste destino, l'una ammalata di sclerosi multipla, l'altra di una malattia neurologica ancora non identificata. Due amiche unite anche nell'assurda battaglia contro la burocrazia e le lungaggini tutte italiane per vedersi riconoscere i propri diritti. Entrambe infatti, seppure con percorsi diversi, hanno dovuto fare ricorso per ricevere il dovuto trattamento. Chiara Sgueglia è stata la prima a rivolgersi ai media per lanciare il suo grido di dolore. Oggi è stata riconosciuta invalida al 75% e percepisce un assegno mensile di 280 euro, ma non le è stato riconosciuto il diritto all'assistenza domiciliare da parte di un familiare. Io ho avuto fino all'inizio l'invalidità del 46%, è andata avanti, sono andata per rinnovare la patente, ho chiesto spiegazioni, ho detto va bene allora, però devi prendere la patente speciale. Se proprio non posso guidare in maniera normale, a detta di alcuni medici, voglio anche l'aggravamento della malattia. Quasi non me l'hanno dato, mi hanno dato proprio il 67% tirato senza neanche farmi una visita. Ho presentato il ricorso durante la visita dal medico legale nominato dal tribunale, questo qui mi guarda, signora si alzi in piedi, arrivederci ciao. Ipoteticamente dovrebbero valutare se è una forza nelle braccia, nelle gambe, l'equilibrio, se vede bene. Per dire, avevo fatto la domanda oltre all'assegno di invalidità anche all'articolo, mi sembra il comma 3 dell'articolo 3 della 104, cioè l'assistenza domiciliare da parte dei parenti, per dire mio marito tre giorni a settimana di ferie pagate, me l'hanno legato. Tu sei, secondo loro, autosufficiente per gestire una casa con due bambini da sola. Sì, esatto. Cioè proprio a livello dello Stato, Stato, Regione, Comune, quello che è, io le tasse sono costruite a pagarle perché se no mi bussa a casa l'equitalia, mi sequestrano la macchina, possono più ignorarmi la mobilia, la casa e così via. Però quando chiedo qualcosa io, ho tutti l'orecchio da mercante e non penso soltanto io ma tante tante persone qui in Italia, perché soltanto in Italia di malattie sclerosi ce ne sono 57.000. Tatiana Francini invece è invalida al 100% e percepisce l'assegno di accompagnamento, ma per entrambe le terapie pagate dal servizio sanitario sono soltanto 20 in un anno. Non è che con 20 sedute hanno e uno ci faccia granché, cioè in patologie croniche come la mia o come quella di Chiara. Come ti senti dopo che hai fatto questa terapia? Allora, io ho notato che dopo aver fatto fisioterapia sono un pochino più sciolta nei movimenti. Ovviamente il tutto relativo perché non è che uno... Però certo, sì, ovviamente. Quindi ti senti sollevata solo 20 volte l'anno? Sì, ovviamente se uno non se li paga di patria scasola, proprio ovviamente. Per Tatiana anche la beffa di non essere mai riuscita a dare un nome alla brutta bestia che a 26 anni le ha tarpato le ali. Io sono stata comunque ad Arezzo, a Siena, a Firenze, a Bologna, a Verona, a Milano. Ho girato in tutta Italia e ancora ad oggi non ho la diagnosi. Ho questa buona neuropatia. Attualmente attraverso anche la biopsia muscolare sono riuscite a capire che probabilmente è anche una patologia mitocondriale. Però il fatto è che comunque una diagnosi ben precisa non esiste. Di conseguenza non esistendo una diagnosi non esiste nemmeno una cura. Io mi accorgo di peggiorare perché ho visto molto peggioramento nel corso degli anni. e questo peggiorare senza comunque avere una luce, qualcosa che ti possa dire gli aggrappati non è il massimo.